Stai per metterti in viaggio per la tua vacanza? Prima di partire, controlla la situazione del traffico. Informati sulle condizioni della viabilità e sulle eventuali chiusure dell'autostrada per i cantieri in corso per la costruzione della terza corsia dell'A4. Consulta l'app Info Viaggiando. Il sito www.infoviaggiando.it oppure chiama il numero verde 899 6099. La rete autostradale di Autovie Venete si estende per quasi 200 km ed è dotata di tutti i servizi necessari a rendere confortevole il tuo viaggio. A4 Venezia Trieste A57 Tangenziale di Mestre, Quarto Daltino Terraglio A28 Porto Gruaro Conegliano A34 Villesse Gorizia A23 Palmanova, Udine Sud 16 sono le aree di servizio dove puoi concederti una bella pausa rilassante. Scegli la tua destinazione. Uscendo da uno dei 15 caselli potrai raggiungere facilmente le località banneari, le montagne e gli incantevoli borghi che rendono le nostre due regioni, Friuli, Venezia e Giulia, Veneto, territori veramente unici. Riparti in sicurezza. Viaggia con Autovie. Autovie